Ora, sull'eterno femminino noi abbiamo voluto interpellare una persona che in materia qualche cosa ne sa, perché da anni, da decenni che se ne occupa, è che è Alberto Lattuada, il regista Alberto Lattuada. Perché non hai mai pensato a fare una Lulu a cinema? Sì, hai ragione. Forse è l'ombra di Pabst che ha dato al cinema una Lulu perfetta, secondo me, che mi ha intimorito. Hai visto la Lulu di Pabst dai, da giovanissimi. Sì, l'ho vista e rivista diverse volte e la maschera di Louise Brooks è indimenticabile ed è perfetta. Forse la impossibilità di raggiungere quell'identità fisica di Louise Brooks, di trovare una nuova interprete così, mi ha fermato, cioè mi ha messo in soggezione. Certo il personaggio, trattato da Wedekind, con una forza che direi da fotoromanzo, e poi ti spiego perché uso questa parola, perché procede per colpi rapidi, per esemplificazione di caratteri che sono eccezionalmente attraenti, e direi per contraddire Goethe che il vaso di Pandora va giù e su, non va soltanto verso l'alto, va anche verso il basso. Ma tu non hai paura di usare la parola fotoromanzo? Quando i critici dicono che uno dei tuoi primissimi film, Anna, è uno dei tuoi, l'ultimo, quello che si chiama La Cicala, che sugli schermi adesso sono dei fotoromanzi, tu non ti offendi? No, perché io ho voluto, di proposito, trattare il racconto con una successione incalzante di fatti e avere un piacere visivo molto più forte che non il torrente di parole che in genere adesso occupa gli schermi e entra nelle psicologie, eccetera. Ho voluto dare con appunto questa voglia di descrivere rapidamente e molte cose condensate in poco tempo e quindi mi è venuto spontaneo di chiamarlo fotoromanzo per la semplicità del racconto. Sono trent'anni adesso, sono più di trent'anni probabilmente... Eh, qualcuno anche di più. Qualcuno anche di più che tu fai dei film e svesti delle donne. Un modo rapido di presentare la cosa, beh, è così. A furia di fare film e di presentare delle donne e delle ragazze per lo più e di svestirle. L'eterno femminino, questo eterno femminino così antico di nascita, è cambiato o no? Ma io intanto voglio precisare che le svesto quando è necessario, perché se no sembra che semplicemente io faccia un'operazione di voyerismo, cioè di guardone. Viceversa no, tutti i personaggi che si sono spogliati si sono spogliati perché dovevano farlo, perché la storia lo voleva. E detto questo, l'eterno femminino si è cambiato. Beh, sono cambiate alternativamente le forme, un po' come le gonne che si alzano e si accorciano. Così le forme a Danford dell'Ottocento, con i fianchi larghi, sono diventate mascoline, sono andate verso i fianchi stretti, i seni piccoli, hanno raggiunto quasi il momento dei modelli di Klimt, dell'espressionismo. Ma io dicevo, nel suo modo di rapportarsi a noi, le donne, nel loro modo di comportarsi con l'altra metà del mondo, quella maschile, negli ultimi 15 anni, diciamo, sono cambiate o no? Sono cambiate per una conquista... In meglio o in peggio? Sono cambiate in meglio per una conquistata libertà. Libertà che nel disordine della prima conquista di questa grande libertà, ha creato anche qualche squilibrio, qualche eccesso. Forse ha tolto un pochino alla donna il mistero che il corteggiamento dell'uomo metteva intorno alla donna per cercare di conquistarla. Oggi è lei che si muove anche alla conquista, quindi ha tolto un pochino di questa crosta invalicabile, però i rapporti sono molto più aperti, molto più liberi e la donna ha preso una forza, secondo me, molto bella, molto astraente. Andiamo verso l'unisex, è chiaro, andiamo verso l'origine misteriosa della nostra essenza doppia. Noi abbiamo i seni e non sappiamo perché li abbiamo, ma li abbiamo perché dalla cossola di Adamo e anche nelle dottrine orientali è stabilito che l'uomo era uno, l'uomo, la creatura umana era unica e poi si è scissa nei due per creare un interesse, un contrasto, un'attrazione continua molto importante che tende all'unità, appunto. Allora è vero quello che ho letto da qualche parte che la prossima volta svestirai dei ragazzi, non più delle ragazze? Svestirò? No, presenterò dei caratteri maschili, forse nel momento interessante della trasformazione dell'adolescenza in giovane, sì, è probabile, sì. Tu ti sei difeso poco fa di fronte a questa storia dello svestire, però non vedo perché, perché poi racconti Diario di un grande amatore e il titolo, mi pare, del tuo prossimo libro, che è scritto in tedesco, se non sbaglio. No, c'è un frammento, c'è un frammento di un personaggio, nel primo racconto che è umoristico, è un po' una presa in giro, anche il titolo è un'autoironia, Diario del grande amatore, firmato da me, vuol dire che io rido un po' su questa cosa. Che parla in tedesco? Il personaggio è in Italia e quindi parla in un italiano tedesco e tira fuori una strofetta, quando protesta della sua insoddisfazione, dice, io ho oramai ciunto, età decrepita, a mi la tonna venuta insipita, perciò marciare, mio velocipita, e marche, viene ancora. Allora, quest'età decrepita, tu sei lontanissimo dall'età decrepita. Arriva galoppando. Dall'età decrepita, però c'è un problema, se posso rivelare agli spettatori una cosa che una volta mi hai confidato in privato, e cioè che per riprendere bene, per svestire bene una donna cinema, bisogna desiderarla e non averla. Sì, penso anche nella letteratura che le cose di natura erotica sono proprio atti che riflettono un desiderio spinto all'eccesso. E non appagato. E non appagato. Proprio perché questo desiderio mette a fuoco completamente l'essere che tu vuoi possedere. Io dico che nel cinema bisogna usare la macchina da presa avvicinandosi al massimo all'atto di possedimento senza raggiungerlo, e quindi è una copula attraverso la lente. E questo credo che dia forza alla descrizione.